Ci siamo sempre qua in questo treno bellissimo, fino a Madrid. Stiamo percorrendo da Saragossa fino a Madrid, un viaggio di un'ora e venti minuti. Questo è molto bello, carino, ci siamo qua. Siamo quasi a metà del percorso, andiamo verso Madrid, da Saragossa, Richtung Madrid, ci siamo passati a una volta, una volta, una volta, un po' di gente, un po' di gente, in questo modo. Stiamo percorrendo da Saragossa fino a Madrid, un viaggio di una ora e venti minuti, un viaggio di circa, andiamo a vedere che ci sono percorso, un paese benissimo, che bello, e questo è stato approvato, che ora si può viajare un po' di più. che abbiamo preparato, che è nato per viajare, che al minimo erano 600-900 euro per viajare. E ora poi, queste 9 euro, queste in Madrid a Barcelona, al prossimo viaggio. Adesso costa molto di meno viaggiare su questi treni veloci, e infatti bisogna approfittarne. Adesso costa molto di meno, che siamo qua, in questo bellissimo posto, e mi hanno detto che questo, questo marchio è un marchio italiano, che va verso Madrid, da Barcellona. Mi pare che questo, arrivato da Barcellona, farà Saragossa a Madrid. Adesso devo chiedere, magari è proprio così, devo chiedere che magari, potevo anche prendere quello da Barcellona. questo è un marchio italiano, questo è un marchio italiano, secondo quello del Vendetto, questo sarebbe un italianish, super, è una marca italiana, che secondo me dice, è un marchio italiano. È un marchio italiano che per fare il Vendetto. Allora, ci sono sottotitoli in Italia. Allora, il prossimo viaggio, il 28 di febriero, da Madrid fino a Barcelona, attraverso le grandi offerte che stanno andando ora in questa pagina di Irjo, spettaculare spettaculare, qui analizzando questo paisaggio è davvero chévere e ci sono molti tunnel che aiutano a che il viaggio sia più rapido è una esperienza fantastica, da Zaragoza a Madrid è bello che bisogna praticare questo viaggio bellissimo questo percorso è molto tranquillo non si sente tanto rumore diciamo questi sono dei treni più moderni nell'attualità ci sono 50 minuti per arrivare a Madrid è subito in Cievere, la stiamo passando lì veramente bellissima esperienza qua da Barcellona sarà la prossima tratta da Madrid fino a Barcellona vediamo cosa succede è un viaggio ancora di un'ora e 20 minuti in più da Madrid a Barcellona invece adesso la metà percorso alla fine vi lascerò tutti i dati dove possono comprare anche un'app che approfittare del hotel inferno alla fine vi lascerò di descrizione vi faré la descrizione di i primari di un'ora e i segnale di coprire queste inferno con alterazione di una o due settanze si si può trovare di 9 € un viaggio è un gigante fantastico per tutta la madonna, le so è 9€ e soprattutto per avertenuto la experiencia in questo tipo di tren, è fantastico vale la pena, è davvero chevere qui dentro la temperatura è davvero chevere, e in caso il calor e poi sta molto bene che fai l'occhi e s'accommodo non si sente la velocità però stiamo andando a 250 km per ora davvero arriviamo molto veloce a più di 250 km per l'ora infatti poi arriviamo molto presto un percorso così di 300 km per l'ora 20 minuti veramente molto veloce qui passano un tren rapido rapido e facendo un carcero molto bello vale aprovechare la città che si vedono le città a metà camina qui si produce qualcosa la vegetazione ci siamo ragazzi adesso facciamo una in vivo o in directo poi vediamo cosa facciamo poi venitevi al mio canale ci vediamo presto a un filese arrivederci ciao ciao a presto ciao ciao ciao